Ciao a tutti ragazzi, sono io, aspetta il ragazzo di capire la porta, Giovanni saluta Ciao a tutti, ciao a tutti quelli che sono iscritti, io vi guardo bene Allora, noi vogliamo che si scrivono qualche altro per favore Allora ragazzi, voi non sapete che io ho un Minecraft, però c'è Guardate, sono in sopravvivenza, ho guardato quanto ho fatto So che è moddato, l'ho prodotto moddato per tutte le skin Comunque, ragazzi, obiettivo di questa puntata Obiettivo di questa serie Che facciamo, Giovanni? Uccidere Così uccidiamo Nemici Sì, ma dico, quali nemici? Il drago potrebbe, però E allora Potremmo uccidere Potremmo uccidere Il drago And, dell'and Possiamo uccidere il drago e l'and Prima, intanto, penso Il letto è troppo l'istante Ecco qua, si torna Perché sono di sopra Sono bugato Eh, vabbè Fa niente, però Per andare Dobbiamo appigliarci Prima cosa di tutto Dobbiamo appigliarci Spada in diamante Poi un piccolo in diamante Dove è andata a finire? Please Grazie E via Fabi Piccolo in diamante E ci pigliamo Anche questa Ascia No, c'è gente C'è gente Ah, già c'era tutto addosso Aramatura Quindi andiamo qua Ecco qua Sì Ah, comunque mi sono fatto pure Lo scudo Ci pigliamo pure un arco Sei morto Non l'hai fatta tu? Sì L'ha fatto il tuo amico Te l'ha rubato Ci pigliamo Le frecce Ok, penso di essere pronti E Bravo Eh, comunque Ragazzi Io direi di Andare In questa caverna Che Ah, no C'era un'altra Il deserto Con scuola Già esplorata Off camera Comunque Primo episodio Minecraft Sopravvivente Due uccisioni Mamma mia Una uccisione Due Una Comunque ragazzi Se non date Alla c'è Un Un uovo di drago È perché Sono stati esperimenti Del vostro Demococenza Se io voglio Quest'arma Allora sì L'ho trovata Allora Ragazzi Mi ho scordato subito Le torce E noi andiamo in caverna Le cose più importanti Ah Comunque la mia casa E quella lì È troppo figa Se io lo so Allora Mi so Scusate Le cose più importanti Che dovevo fare Però Niente Torce Mi serveva pure la carne E non me l'ho portata Ok 3 di carne Ci portiamo pure Una crafting Una fornace Sei morto Ergil No L'hai ucciso No l'hai ucciso il mio amico Lo stavo uccidendo anche io Solo il furbo Mi ha rubato anche io Allora La crafting table Devo passare qua dentro Crafting Sì Carne Non c'è più niente di interessante Non c'è più niente Come sapevo Che bello Allora Dove più è le torce Che c'ho qua Ma in realtà sono Non mi ricordo dove sono Dove erano le torce Ah Non ne erano qui Allora Ragazzi Vuole un casino In questa casa Perché non ci gioco Da Torce Tra l'altro Sarebbero altre Fa niente Ragazzi Mi trovo Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Da quanti metri l'hai fatto? Da qua fino? Da 755 metri Ho fatto l'uccisione Da quanti sono 755 metri? Sono 755 passi Perché è uno stack? Eh però Non sono tanti E quello Infatti sono tanti Tu ho ucciso il mattino Guarda Quanti nemici Oh Fatti quanto Era una peccata Sto facendo un casino Non so giocare a minecraft Scusatemi Il dragon Non uccideremo mai Se continuiamo così Morto Allora Andiamo In caverna Io non ci voglio andare di notte Dovremmo tornare di notte Vero? Non è toccicero Allora Ho fatto con un sentiero E ci porta Sul Cosa qua? Ecco Se levo lo scalso Che non si vede niente Intanto guardo Giovanni Saudate Giovanni ragazzi Allora Torce in mano E si va A uccidere Il piccone Me lo so ricordato Non muovo Ho fatto la missione Grande E se me l'ho scordato Quello Mi sparavo Anzi Mi piavo la spada E E mi infilzavo solo Bene Allora Così esce Bello schifo E Comunque Allora Sceletro Non c'è di qua No raga Sento uno scheletro No creeper 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 Ma qua la scuola Buona notte Già Qui la porta giù Grazie Dove mi aiutare Che frecce O devo scendere Io A far vedere Chi comanda Penso che devo scendere Sì Io da giocolare Non sono bravo C'è del ferro Io do A proteggere Questo Pezzo di ferro Vieni Vieni Elena Via Elena Già Fai uscire Elena Ok Riuscite Io do Mi avevo messi male E dove ho messi male Su minecraft Allora Ho fatto tre missioni Quindi tre missioni Dovemmo essere più o meno A livello Mancava un livello Per la skin No Mancava un livello Per la skin Seconda Dopo lo troviamo Ale Maggiù E chi ti ci ha portato Aremo Ho fatto più di 60 livelli Compa Tu hai fatto tre livelli Allora Sono qua Infatti il livello è sempre forte Ho scorto Sì ma zitto che mo Io fanno sta scorta Allora Allora Penso che ci arriviamo Vero La mia roccia è qui Infatti immagini Tra poco viene Allora Che troviamo la skin Allora Allora Che L'incinale Allora no Raga Comunque Questo posto Lo speriamo Una prossima volta Perché So costruire male Sono scarso No Allora Aspetta Ma dobbiamo stare attenti Qui Perché sto ferro È stronzo Ok raga Qua Io questo ferro Lo adoro Quindi Batti via E Bra Ok E qua E speriamo Una prossima volta Sì ma Io sto giocando A minecraft Non a fortnite Allora E io lo sapevo Che c'è E io lo sapevo Allontanati Perché Io Non sai quanto ti voglio male Ma Non poco Ma troppo Ci sono messi bene Continua Questo Grande E quindi Qua che spavano Tutti i zombie Che vengono a casa mia Aio Allora Ma penso che Se ne hanno Tutti fuori Ah se Scolto sto di prima E non voglio rimanerci Qua Raga Io direi di chiudere Che ne richiedo Se io chiudo Per non farmi Tutti Cioè Poi Ci Riveniamo Nella prossima puntata Cioè Non uscirà Oggi Oggi Scerà questa E poi Qua giorno Ci faremo Una torna Tutta nostra Con La ferrovia Qui nel terzo episodio Faremo la ferrovia Che entra qui E che ci pia I materiali Ok Io qua Non faccio più niente Faccio solo La finestrella E qua Io vorrei chiudere La cule però Non posso Vabbè In questo episodio Non possiamo chiudere Ho capito Comunque ragazzi Ma non so più Come si esce Vediamo cosa E C'è ferro Lo so Perché non piglio ora Ma pensiamo Di uscire Ragazzi Qua io Non ci entro Va bene Citto 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 Do scappare Do scappare Do scappare E qua che spawnano Tutti i creeper Io non so giocare Ve l'ho già detto Non so giocare Ma siccome mi sembra Che non è la strada di casa Quindi non l'ho Ragazzi Io non ci voglio venire Qui Ecco qua Nabbo di schifo Nabbo di schifo Ok Questo qua dove si esce Parecchio male Gio Non mi interessa Gio Non mi interessa Ora so che il piccone Ma Bisogna capigliarlo Ecco No La mia vita Fa proprio schifo Il mattino Penso che c'è questa Una notte intera No Non è il mattino Allora Bella giornata ragazzi Possiamo concludere Qua questo video Sto scherzando Comunque Ci possiamo concludere Qua questo video E ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi